Ciao ragazzi, ben ritrovati nella Baia, sono Ben. Oggi vi faccio vedere come utilizzare l'end tracking di Quest 3 in SteamVR e quindi andare a giocare tutti i giochi in VR senza l'utilizzo dei controller. Attenzione, non vi esaltate troppo perché stiamo parlando di una cosa che si può fare per sfizio, cioè giusto per la curiosità di vedere come funziona il tracciamento delle mani all'interno dei giochi, ma è veramente, veramente complicatissimo riuscire a fare anche delle piccole sezioni. Cominciamo dalla base, cosa vi serve? Innanzitutto sulla vostra libreria Quest, quindi da Quest, dovete installare Steam Link che è gratuito. Dopo averlo installato, cliccate su questi tre puntini qui, Impostazioni, andate su App Installate, Canale di Rilascio e Public Beta Iscriviti. Dovete selezionare questa di qui e siete iscritti in pratica alla Public Beta. Dopodiché c'è un'altra cosa che dovete fare. Questo sempre farlo dal vostro PC, non lo fate da VR. Io vi sto mostrando solo cosa dovete fare prima di entrare in VR. Nella vostra libreria andate a cercare SteamVR, lo potete cercare anche qui. Aprite la pagina di SteamVR, andate qui sull'ingranaggio, Proprietà, andate su Beta, selezionate, potete chiudere, riavviate Steam e dopodiché potete entrare in VR e avviare Steam Link. Ve lo faccio rivedere, giusto per farvi capire come si fa. Ok, quindi prima dovete installare Steam Link ed entrare nel canale Beta. Dopodiché andate su Steam, sempre da PC, attivate il canale Beta di Steam. A questo punto possiamo avviare Steam Link. Se è la prima volta dovete eseguire una piccolissima configurazione affinché il vostro computer venga riconosciuto da Steam Link. Ma è una cosa semplicissima, sono giusto due passaggi. Avviamo Steam Link e clicchiamo su connetti ed entreremo direttamente in SteamVR. Ecco qui, a questo punto cosa dobbiamo fare? Al momento io ho i miei controller. Come facciamo a passare dai controller al tracciamento delle mani? Sul controller o destro o sinistro premete B, andate su Avatar, cambia le mani e impostate le mani a cinque dita. Premete nuovamente il tasto che avete utilizzato per aprire questo menu, magia delle magie, poso i controller per terra ed ecco qui ragazzi, sto utilizzando le mie mani. Da questo momento in poi posso utilizzare le mie mani per fare qualsiasi cosa, compreso giocare. Ogni pizzico equivale a un controllo. Vedete? Questo per esempio è la levetta per girare a destra, questa è per girare a sinistra. Ok? Quindi è lo Smooth Turn. Quindi la rotazione è a scatto. Vediamo se lo tengo premuto invece cosa fa? Niente, rimane sempre così. Questo di qui invece è il teletrasporto. Vedete? Mi posso teletrasportare dove voglio. Ritorniamo un attimo nella mia impostazione. A questo punto dobbiamo dire a Steam che per i giochi deve utilizzare il tracciamento delle mani. Come facciamo? Palmo della mano sinistra rivolto verso di voi e fate un pizzico tra indice e pollice. Si apre questo menu qui davanti, un pizzico su impostazioni VR, controller, gestisci associazione controller. Per esempio, io adesso sto andando a giocare a Into the Radius 2 e vado a scegliere l'associazione per i controller. Qui vado a mettere personalizzata. Qui scegli un'altra, anziché controller Oculus Touch, Hand Tracking Controller. Questa opzione è attiva solo se avete fatto i passaggi precedenti, cioè canale beta su Steam Link e canale beta su SteamVR. A questo punto ho selezionato Hand Tracking Controller e posso andare a modificare ogni singola funzione dei vari controller. Già abbiamo delle impostazioni predefinite, però se volete potete anche personalizzare. E qui viene il problema. Ma andiamo per grado. Innanzitutto, avviamo Into the Radius 2 e vi faccio vedere cosa è possibile fare con le nostre mani. In Into the Radius 2 ho riscontrato un problema, l'angolazione delle mani. Faccio vedere un attimo col pass through. Ecco, vedete, le mie mani sono rivolte in avanti. Nel gioco, guardate invece, ok, quindi c'è una rotazione di 90 gradi in avanti e inoltre devo ruotare le mie dita verso l'alto. Per allineare queste due linee che io ho davanti, devo aprire le mani e ruotarle in avanti. Se metto le mani in questo modo, nel gioco i due cursori sono allineati. E questo purtroppo succede anche nel gioco. Quindi per adesso ritorniamo nel radius e vediamo se riusciamo a muoverci. Vediamo come riusciamo a giocare e se riusciamo a muoverci. Allora, adesso provo a prendere l'arma dalle mie spalle. E semplicemente... Eccola qui. Prendendo l'oggetto dalle mie spalle, riesco a prenderlo. In questo momento sto tenendo il mio pugno chiuso. Ok. Se provo a chiudere soltanto le mani a lasciare l'indice aperto, non riesco. Se faccio il pizzico, non riesco. Quindi devo proprio chiudere tutta la mano per prendere gli oggetti. E' molto interessante perché sembra davvero che sto chiudendo la mia mano per prendere l'oggetto. Il problema è l'allineamento. Che vabbè, sarà un problema di Into the Radius 2 perché ancora è in AirD Access. E poi altre funzioni non sono ben calibrate. Per esempio adesso, per prendere l'oggetto, prima devo pizzicare indice e pollice. E poi devo chiudere... E poi... Devo chiudere... Completamente la mano. Ecco qui. E ho preso l'arma. Adesso posso anche prendere l'arma e allinearla. Non vi dico il casino che devo fare per mirare. L'allineamento delle mani non corrisponde assolutamente a quello che sto provando a fare. Ok? Perché praticamente nella realtà ho una mano qui e l'altra mano è qui. Quindi devo stare molto storto. Non riuscirei a colpire neanche la campana che sta davanti a me. E inoltre, siccome io ho già il pugno tutto chiuso, nel momento in cui apro l'indice per premere il grilletto, perdo la presa. Vedete, in questo momento io sto premendo il mio indice come se volessi sparare, ma l'arma non spara. Vediamo anche se riesco a togliere per esempio il caricatore. Ecco, questo non ci sono. Per rimetterlo è un casino. Qui per caricare col pizzico. E dai, questo è interessante. Per prendere l'arma con entrambe le mani devo chiudere l'altra mano. Però non riesco a sparare. Non appena apro tutto l'indice, perdo la presa dell'arma. Quindi deve essere impostato in maniera precisa. Adesso facciamo qualche esperimento e vi faccio vedere. Associazione del controller. Personalizzata. Scegli un'altra. E voglio provare a impostare per prima cosa il movimento. Vediamo se riusciamo a muoverci. Impostiamo il movimento sulla mano sinistra. Il pizzico tra il medio. Vedete, qui non mi sta riconoscendo neanche il pizzico. Imposta un'opzione analogica. Vediamo se adesso funziona. In teoria io ho impostato il movimento con l'indice. Però, vedete, non succede nulla. Né con la destra, né con la sinistra. Quindi ragazzi capite dove sta la difficoltà nel settare tutto questo. Adesso per esempio, io voglio impostare il pizzico col medio un tasto. E facciamo per esempio B. Il tasto B. Middle pinch. Tasto. Vedete, la difficoltà sta anche in questo. Che non c'è per esempio tasto A, tasto B, tasto X, tasto Y. Tasto menu destra, tasto menu sinistra, levetta destra, levetta sinistra. Ci sono delle voci generiche. E quindi voi dovete provare uno per volta. Button 2, right. E poi su Ring Pitch andiamo a impostare il button 2, right. E proviamo così. Ok, adesso in teoria, con la mano destra, utilizzando il pizzico col medio, dovrei cambiare il selettore di tiro. Mentre utilizzando il pizzico con l'anulare, dovrei estrarre il caricatore. Vediamo se funziona. Invece no. Perché appena io lascio un dito dalla presa, mollo la pistola. Quindi ragazzi, come vedete, c'è molto molto da lavorare. Io vi consiglio di selezionarvi alcuni giochi dove più o meno le mani già, senza dover andare a impostare eccessivamente comandi, vi consentono di fare un'esperienza più o meno decente. Adesso facciamo una cosa. Esco da Into the Radius e voglio provare Exocars. Vediamo Exocars come funziona. In teoria Exocars dovrebbe più o meno funzionare bene, perché i comandi sono la presa sul volante, l'acceleratore e il freno. Anche qui le mani sono completamente girate. E intanto Bennett, sono già all'ottavo posto, ragazzi, nel torneo mondiale dei Content Creator. E ovviamente, ragazzi, non riesco ad accelerare perché si accelera col grilletto. Allora, ok. In pratica, con una mano sto tenendo il volante e con l'altra sto utilizzando l'acceleratore usando il pizzico. Però, ragazzi, è impossibile. Ecco, in questo caso devo utilizzare l'altro pizzico perché devo fare marcia indietro. Esperienza orribile. Però, ecco, per esempio, in un gioco del genere già comincia a funzionare meglio. Io in questo momento ti ricordo che sto utilizzando solo le mie mani. Non sto utilizzando dei controller. Dai, completiamo il primo giro. Oh, oh, oh. Ogni tanto per il tracciamento delle mani, quindi non riesco a girare come vorrei. E, insomma, ragazzi, è un'esperienza, se siete curiosi, insomma, se volete utilizzare questa funzione per curiosità, diciamo che può essere anche un'esperienza divertente. Però, al momento, avete visto che è praticamente impossibile giocare anche una semplicissima sessione. E quindi, ragazzuoli, hand tracking di Quest 3 su SteamVR, ma come vedete, è una cosa completamente inutile perché dovete passare ore, praticamente, a trovare la configurazione giusta per ogni singolo gioco. Quindi, al momento, un bel esperimento, ma totalmente inutile. Dai, fatemi sapere tra i commenti se ci avete provato e siete riusciti a trovare una configurazione giusta che vi consenta, quantomeno, di andarmene un po' in giro. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Se volete supportare la Baia, lasciate qualche doblone nel forziere utilizzando il tasto Supergrazi che trovate sotto al video. Dal vostro Capitano Bene è tutto, vi aspetto nella Baia per una prossima avventura. Un saluto, Marmaia. Ho, ho!